ci sono problemi gravi gravissimi a taranto ma ci sono altre situazioni che hanno la loro incidenza pesante sulla qualità della vita delle persone mi trovo in corso umberto all'altezza quasi di via pupino guardate qui c'è un tombino dei lavori fatti in maniera vergognosa coi piedi da fast web e questo chiamiamolo lo ripeto impropriamente tombino presenta una grossa criticità le due metà di acciaio non combaciano c'è un certo dislivello motivo per cui ogni volta vedete sentite che passa una macchina il tombino sobbalza e rende la vita infernale non solo a chi abita qui nelle immediate vicinanze ma io che abito in via pupino quasi ad angolo con sentite con con via pitagora lo sento a distanza questi rumori sono infernali soprattutto nelle ore pomeridiane nelle ore notturne nei momenti cioè di maggiore silenzio vi faccio sentire i rumori a testimonianza che quello che dico non sono favole quello che dicono le persone che sono esasperate non sono favole sentiamole sentiamo insieme ascoltiamo insieme questi rumori pazzeschi lavori fatti con i piedi da una ditta di incapaci di assoluti incapaci ovviamente questa situazione sta qui da oltre un mese l'amministrazione melucci dorme dorme lo sottolineo mi meraviglio che l'assessore ai lavori pubblici mimmo ciraci non intervenga veramente non interviene quasi mai ma lui abita proprio in uno di questi palazzi qui accanto e quindi sente anche lui questo rumore evidentemente non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire è assurdo è assurdo il modo in cui sono stati fatti i lavori vi faccio vedere il dislivello proprio qui lo guarda vedete tra le due metà la sporgenza il dislivello che c'è che è proprio l'ideale per far sbattere le macchine e far sentire i rumori e poi tutto intorno il il manto stradale sta cedendo già si vedono vedete le crepe lavoro fatto con i piedi da una ditta assolutamente incapace quindi fast web si serve anche di ditte assolutamente incapaci ma cosa grave è l'amministrazione comunale di taranto che tacce perché tua amministrazione visto che è stato intaccato il tuo manto stradale intervieni e prendi per le orecchie fino a staccarle in senso metaforico ovviamente la ditta ecco vedete passa una macchina quindi i rumori sono impossibili infernali io non so assessore ciraci visto che abiti da queste parti vuoi degnarti di intervenire vuoi degnarti vuoi far sì che la ditta venga richiamata all'ordine e la ditta ripristini una corretta agibilità chiamiamola così del del manto stradale della viabilità è possibile questo cosa ci vuole ma se questa è un'amministrazione che dorme cosa si può pretendere ciraci sveglia oramai melucci è al terzo sonno in questo primo anno di amministrazione per non parlare poi dei precedenti ma anche tu svegliati ciraci non li senti i rumori quando quando stai a casa e non li senti penso che abbiamo proprio toccato il fondo ma io su questa storia non mollo ma io su questa storia non li senti i rumori quando stai a casa e a casa e a casa